Gli argomenti economici sono tornati di attualità, se non altro per motivo delle crisi economiche recentemente avvenute. Ma è chiaro che per impostare una soluzione di queste crisi e del problema economico bisogna prima intendersi su cosa vuol dire l'economia. L'economia vuol dire innanzitutto una scienza e un'arte, se vogliamo anche, per realizzare il benessere all'interno del bene comune della società. Ma questo bene comune della società vuol dire non una cosa stratta ma una cosa molto concreta, cioè il bene degli uomini che compongono questa società. E questo è possibile soltanto se a monte abbiamo già una concezione retta, corretta dell'uomo, un'antropologia, insomma una filosofia dell'uomo che prevede non semplicemente realizzare l'utilità di una persona o di un ambiente, di una classe, ma di realizzare il vero e proprio bene comune della società.